Musica Lasciate a nuovo dire per una volta, prima dei doverosi saluti, questa è una puntata a cui tengo particolarmente, perché parliamo di una storia bellissima, dove il personaggio che non c'è è lo chef Antonino Cannavacciolo, perché oggi parliamo del maestro della cucina italiana, che oggi ha ricevuto la terza stella a Michelin, perché con noi, e quindi questa è l'occasione per dare il saluto a tutti quelli che ci guardano su blocosicidia.it, su Videoregione, al canale 14 del digitale terrestre, c'è uno chef che viene dalla scuola di Antonino Cannavacciolo. Benvenuto a Gianvito Gaio. Grazie a tutti voi e benvenuti. Gianvito, cioè terza stella a Michelin, parliamo un poettino di Maestro Cannavacciolo, che significa per uno chef la terza stella a Michelin? Allora... Non c'è più niente oltre. La terza stella a Michelin è il sogno di una vita, l'obiettivo di ogni chef di cucina, quindi per chi si prefissa la terza stella a Michelin è l'obiettivo migliore da raggiungere al mondo. Cioè il pallone d'oro per il calciatore, col campionato del mondo e la Coppa Europa. È la stessa cosa in cucina, la terza stella a Michelin. Puoi essere la cosa maggiore che esiste per uno chef è essere il migliore ristorante al mondo, ma quello diciamo che è un po' un sogno, diciamo che non possiamo... Vabbè, però secondo me è il nostro amato Cannavacciolo sulla buona stata. Ora, non è che siamo improvvisamente impazziti e ci mettiamo a parlare di Antonino Cannavacciolo così, ma come vi ho detto, Gianvito ha fatto, puoi dire, che è un chef già con... Non ha ancora le stelle Michelin, però puoi dire... Però, diciamo, le pacchie sulla spalla ce le abbiamo. Gianvito ha una storia professionale che, come dire, si incrocia con quella di Antonino Cannavacciolo, perché tu per quattro anni hai lavorato a Villa Crespi, che è il tempio della cucina italiana. Ci racconti il tuo rapporto con Cannavacciolo, quest'uomo così burbero ma col cuore d'oro e con questa grandissima passione per la cucina? Allora, il rapporto, diciamo che con il chef nasce da una base. Io, una persona molto semplice, è come lui anche una persona... Tu sei originario di Cinisi, quindi proprio della provincia palermitana, la parte più bella che dà sul mare andando verso Trapani. Il rapporto con il chef era molto umano, perché a chef volevo veramente bene, perché quando qualcuno ci insegna qualcosa, ci dà qualcosa nel suo sapere. Letteralmente un maestro di vita. Letteralmente diventa un maestro di vita, quindi questo voler bene allo chef era anche dato da questo. Non solo a lui, ma anche a tutta quella che è la brigata, quindi le persone anche su Chef, Simone, che ricordo essere una grandissima persona, è anche un grandissimo maestro anche lui di vita, perché oltre gli insegnamenti di cucina erano anche insegnamenti di crescita professionale e umana più che altro. L'esperienza Villa Crescchi è stata un'esperienza per me formativa, un'esperienza di crescita. Ho imparato a vedere le cose in maniera diversa. Tanto tu entri là come saggista, ma a un certo punto ti dicono, resta qua, ti assumiamo. Sì, no, io entro come saggista perché ho fatto ALMA, che è la scuola internazionale di cucina italiana, e poi sono stato assunto da Chef, quindi dall'azienda... Ma in quel caso è proprio Cannavacciolo che decide, lui sì, lui no... Sì, diciamo che ci viene fatta una selezione, anche tramite SuChef, tutta la brigata di cucina, quindi tutti i responsabili, viene fatta una selezione di quale persone rimangono, quale persone vanno via, ma sai quanto in quattro anni ne ho viste passare dall'addentro, quindi sai benissimo che da una brigata di trenta ragazzi andavano via uno, due, tre al mese, quindi... Eh sì, la selezione è altissima. La selezione è altissima. È un po' come entrare nella nazionale di calcio della cucina, no? Di più non c'è. Quella è veramente una bella brigata, quella è una squadra che si unisce e vince e perde tutti. Qual è la prima parola che ti ha detto Chef Cannavacciolo quando sei entrato? E tu chi sei? E tu chi sei? Per lì ho già in margine, ma tu chi sei? E tu chi sei? E tu sei diventato rosso rosso? Ho visto questo grande umore perché Chef è molto grande, quindi Chef è molto alto, e la prima emozione è stata veramente... Hai iniziato a balbettare, non so che ti dico... Salve, Chef sono Gaglio e Gianvito. Modalità fantozzi, no? Esatto. Gaglio... E poi c'è quando sei andato via, cosa ti ho detto? Chef mi ha detto torni a casa, perché sapeva che io... Amo la mia Sicilia, amo la mia terra ed è uno dei... Saresti potuto rimanere lì? Sì, 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 ovviamente, mi hanno proposto anche i livelli più alti di quello che ero già adesso, però ho voluto tornare a casa, sono voluto tornare a casa perché io amo la mia terra e credo nella mia terra e voglio fare un percorso che mi lascia il senso. Però è rimasto sempre grande affetto. Però è rimasto sempre grande affetto, però tra me è tutta quella che era la squadra. Senti, ma l'hai sentito il maestro Cannavacciolo per questa terza stella che è... Assolutamente ancora no, ho sentito la direttrice che è Stefani, che è colei che coadua tutta la parte di Cannavacciolo SRL, quindi tutta l'ambaradà e ci siamo sentiti, mi sono congratulato con loro perché Stefani è veramente una grande donna. Anche lei è partita dal basso per arrivare oggi è la direttrice, ma lavorava nelle camere, quindi faceva anche lei una dipendente qualunque. Ma è necessario, cioè questo è un mondo particolarmente, non soltanto particolarmente selettivo, è duro, competitivo, cioè si parte dal basso, no? Assolutamente, sempre si parte dal basso. Mi ricordo quando avevo 14 anni che ero un ragazzino all'interno delle cucine, veramente facevamo, facevo ben poco. Poi pian piano, pian piano, pian piano, neanche io nella mia vita pensavo di arrivare a questo livello. E ti posso dire che per me è stata sempre una grande emozione. Se la cosa si inizia, veramente si inizia a pelare le patate, come si racconta? Si, si inizia a pelare le patate. Quanto è duro a pelare le patate? Perché poi raccontiamo, cioè la gente guarda i format tv e immagina che dopo una settimana uno inizia a spadellare, a sfilettare, a… Assolutamente, ci vogliono degli anni, ci vogliono degli anni a saper sfilettare un pesce, a sapere di sossare una gara. Ho fatto la famosa sfilettare la quaglia, no? Ho fatto la battuta di… Sfilettare la quaglia. Sfilettare la quaglia. E anche di sossare una quaglia, perché ora ci vuole, di sossare una quaglia ci vuole esperienza. Ci vuole tanta pratica, tanta dedizione al lavoro, perché veramente devi passare tante di quelle ore. E tanto amore per le materie prime. E tanto amore per le materie, tanto come diceva il maestro Guartiero Marchesi, che fu una delle ultime lezioni che ho avuto. Ho avuto pure con Guartiero Marchesi. Sì, io sono entrato il 3 di ottobre. E che faccio? Ora, immagino che i nostri telespettatori si stiano chiedendo in molti chi sia Guartiero Martesi. Beh, Marchesi, insomma, è il principe, quello che ha inventato la cucina moderna italiana, no? Esatto, il padre della cucina italiana. Della cucina moderna italiana, perché prima abbiamo avuto… Assolutamente. Le recette tradizionali di ogni regione. Marchesi importa l'internazionalità. Esatto. Da Marchesi, ricordiamo, escono fuori Carlo Cracco, piuttosto che… Vasco Oldani. Tutto, diciamo, la top ten dei… Dei chef italiani. Dei chef italiani che oggi è… Ma c'è Cannavacciolo, ha una storia un po' più strong. Lui, come nasce come chef? Visto che facci un po' il biografo. Cannavacciolo, diciamo che nasce dalla base, quindi nasce dalla fame, perché il chef veramente nasce da mezzo alla strada. Il papà era un professore e anche un cuoco, ma chef, per fortuna, ha avuto anche la fortuna di lavorare per poco tempo sotto le guida dello chef Gualtiro Marchesi. A CP, anche lui, quindi… Quindi anche lui esce da quella scuola. Il tocco magico. Esatto. Era un alquisisano, telquisisana, a Capri. Quindi… Quindi giocava in casa, cannava solo… Diciamo che esce da quella… Poi ha avuto quella che è l'esperienza in Francia, che lui l'ha formato molto, quindi sulla base tecnica. Infatti la… Ha lavorato con Paul Bocuse o… No, non mi ricordo per adesso con chi lavorava, però… Sai che forse io ti ricordo le mie reminiscenze, che forse ti è passato pure sotto le grinfie di Paul Bocuse. Forse sì. È possibile, perché? E quindi quella sua parte di cucina l'ha interpretata in Villa Crespi. Quindi in Villa c'è anche quella mano francese, che si vede, è notevole, però mantiene sempre quella parte mediterranea, che è la sua chiave vincente, no? Perché poi ricordiamo le ricette di cannavacciolo, ci sono tanti libri che lui ha scritto, ma se uno va anche sul blog Sicilia trovate un sacco di ricette che noi abbiamo pubblicato e faccio un po' di autopromozione di cannavacciolo, che sono lettissime. Cioè, il segreto di cannavacciolo, secondo me, è di rendere nobile anche l'alimento più semplice. Non è vero che funziona così, ma questo è il segreto dei grandi chef. Bene o male, alla fine è quello, cercare di promuovere quella parte di materia prima che oggi non viene più valorizzata, perché magari è un elemento di scarto. Quindi noi cerchiamo il nostro lavoro, il nostro dovere da chef di cucina, è quello di valorizzare le materie prime. E seguire le stagioni pure i ministeri. Assolutamente. La stagionalità è importante in cucina, perché non ha senso che noi utilizziamo una melenzana a gennaio, perché è importante… Tranne l'arancina che vale per tutti. La arancina, no, 12 mesi l'anno. La dobbiamo mangiare 12 mesi l'anno. Quella è obbligatoria. Non solo il giorno di Santa Lucia, ma 12 mesi l'anno per forza la dobbiamo mangiare. Quindi è inutile andare a cercare un ingrediente che magari a gennaio non lo troviamo, ma seguire la stagionalità. Quindi rispetto per la materia prima. In cucina serve più la passione, il cuore, l'intelligenza, la creatività. Fai una ricetta con i sentimenti e le qualità che uno chef deve avere per diventare un grande chef. Allora, innanzitutto serve tanto amore per quello che si vuole fare. Anche perché diceva sempre Simone Corvo, che il suo chef di Cannavacciolo, prima di essere uno chef bisogna essere un psicologo. Anche perché tu hai una brigata. Questo non lo capisco. Psicologo in che senso? Psicologo nel senso che anche... Questo per organizzare il lavoro, dici? Anche per organizzare il lavoro. Intanto bisogna tanto amore. Tanto amore per ciò che si fa. Tanta passione. Peraltro il più nobile dei mestieri, perché servire il cibo agli altri è qualcosa proprio di quasi mistico, no? Esatto. Quindi è quello che tu hai dentro, che è all'interno di un piatto. Noi chef, noi cuochi, perché noi alla fine siamo dei cuochi, diciamo i chef, noi siamo dei cuochi. Che differenza c'è tra cui dal punto di vista terminologico non c'è nessuna differenza? Assolutamente no. Solo che chef è diventato il termine più in voga per definire capo. Chi lo fa come chef appunto? Significa capo. Cuoco significa colui che esegue, quindi diventare chef e quindi diventare il top. Ma noi siamo sempre dei cuochi, perché ci mettiamo sempre in gioco nel momento in cui c'è bisogno. Quindi cosa significa veramente fare una ricetta, fare un piatto? Osservare una certa tecnica, mettere tanto di conoscenza, ma tanta tanta dedizione e passione per quello che si fa. Peraltro bisogna studiare pure parecchio, perché non è facile. Bisogna avere veramente una grande cultura. Cioè immagino che, per far capire a chi ci ascolta che magari è chiaro che i format tv sulla cucina sono diventati di grande diffusione, ma in 40 minuti non si può capire la sofferenza che c'è dietro. Assolutamente. Perché anche per esempio dietro... Cioè la cottura perfetta dell'anatra o il solo filetto, cioè quanti filetti è bruciato per fare quello corretto? Tanti, tanti. Ci sono anni e anni e anni di preparazioni, di studi e quello che dico io non si finisce mai di imparare. Perché ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno si cerca sempre, sempre di migliorarsi. Anche nelle tecniche, anche nelle cotture, anche nella sperimentazione di un piatto nuovo. Si cerca sempre di studiare. E il segreto sta lì. Cercare, avere sete e anche quello che dicono, quello che dico ai miei ragazzi in cucina, avere sete di conoscenza. E' quello che oggi manca in molti ragazzi, in molte persone. Si cercano le scorciatoie, ma in cucina le scorciatoie non funzionano. Prima o poi il nodo al pettine verrà sempre. Verrà sempre. Quindi bisogna conoscere, bisogna avere sete di conoscenza, sete di cultura, che è quella che oggi viene un po' a mancare. Tra l'altro, il cibo è, secondo me, il trionfo, parlando poi della Sicilia, noi siamo siciliani entrambi, è il trionfo della nostra storia culturale. Perché noi abbiamo avuto contaminazione da tutti i popoli del Mediterraneo. Assolutamente sì. Anche ci hanno donato piante, ricette fantastiche. Guarda la Sicilia. Pensiamo una cassata, Gianvito, cioè, araba, cioè, con la composizione, i colori, lo zucchero. Come cucina, diciamo che a noi non ci manca niente. Perché per me, come simbolo, per esempio, di Palermo, la pasta con le sarde, cioè, è un tripudio, ma come per esempio... Però ti invito a fare una scommessa. Valla a trovare una pasta con le sarde che non è scotta, che te la cuore stracotta, poi la passano al forno, te la distruggi. Bisognerebbe farla veramente con tecnica e vedi che è una pasta così complicata, ma al tuo stesso tempo è una pasta così semplice. Deve essere saporita, profumata, delicata. E poi ha così tanti di ingredienti che parla della Sicilia, parla dello zafferano, parla del finocchietto, parla della sarda. Quindi parla della Sicilia. E' cultura. E' cultura. Perché c'è una cultura araba, ci mettiamo del nostro, la tradizione dei nostri pescatori, il cibo povero, i pescatori. Quindi parliamo di montagne, parliamo di mare, parliamo di un connubio di Sicilia, parliamo veramente del gusto della nostra terra. E quello per me è un piatto che non tramonterà a mano, possiamo rivisitare quanto vogliamo. Ma la pasta con risalda rimane sempre quella. Ma secondo te è più importante per uno chef seguire le mode o tentare di fare un proprio viaggio culturale e imporre la propria visione? Secondo me seguire la moda si va bene, ok, ma lascia il tempo che trova. E' importante piano piano, piano piano, passo dopo passo, cominciare a conoscere veramente quelle che sono le materie prime, quindi è anche la cultura che c'è dentro di un piatto. Ma quindi è come tanti mattoncini di Lego e tu costruisci a poco a poco. Cioè tu puoi fare un plastico già bello e fotte, impiantato, ma non ha tanto senso. E prima o poi si scollerà. Abbiamo parlato tantissimo di Cannavacciuolo, quando tu parli di Cannavacciuolo ti brillano gli occhi perché c'è come dire... Per me io ho lasciato il cuore sul lago. Tanto affetto e anche un po' di nostalgia. Sul lago d'orto ho lasciato un cuore. Ma ci tornerai prima o poi a lavorare a Villa Crespi? Se ti chiamasse no. Assolutamente no. Eh no perché per adesso c'è un bel impegno, diciamo la verità, cioè per adesso Gianvito... Guarda, Villa Crespi e me è casa. Però diciamoci anche la tua location non scherza per adesso. Esatto. Perché Gianvito, per chi non lo sapesse, ma lo conoscono un po' tutti perché è uno chef che è già famoso a livello internazionale, nonostante la giovane età, con il bel currirmo che si è costruito, con queste spalle, tu sei lo chef, il capo chef dei Giardini del Massimo, quindi al Teatro Massimo di Palermo c'è questa bellissima esperienza culinaria dove ci si respira il profumo dell'arte. E allora, come migliore occasione, dopo Villa Crespi, entrare a casa dalla porta principale. Perché mi sento di dirlo, io sono entrato a casa mia dalla porta principale, dal centro di Palermo. Il centro di Palermo. Il Teatro Massimo è proprio il cuore, il simbolo della cultura. Il simbolo è cultura. Esatto. E' lì che nasce il connubio. Cultura, arte, cucina. Il meglio che possiamo offrire al mondo. Esatto. Quali sono i tuoi prossimi progetti? Cioè, come pensi per esempio di esprimere la tua creatività nel menù del tuo ristorante? Allora, voglio andarci in un altro modo. Esatto, stupisci. Io ho avuto dei sogni nella mia vita. E dei sogni che sono stati veramente... Sì, posso dare un suggerimento. Lo diciamo a bassa voce con i centroni. Secondo me, quando parli di progetti che vuoi fare, più di avere un sogno è una visione. Perché ti li ha l'idea o una visione. È una visione. Perché l'idea è anche la costruzione plastica dell'assemblamento del piatto che puoi fare. Certo. E' la visione. Facciamo la battuta. Ho avuto una visione. Ho avuto una visione. Sto giocando, ho già invito a uno scherzo. Assolutamente. La mia visione è proprio quella di portare la mia terra in alto. Io penso che questo teatro possa portare quella che è la mia persona e quella che è Palermo in alto. Perché Palermo se lo merita. Quindi vuole diventare un'antenna di riferimento culturale che parla dell'agroalimentare siciliano con accanto questo spettacolo. Perché, come abbiamo detto poc'anzi, arte, cultura e cucina fanno parte di una sinfonia. Se questa sinfonia gioca insieme, Palermo è un'esplosione di cultura. E lo sappiamo benissimo dai monumenti, da quello che è la cucina. Tutta la Sicilia. E poi facciamo dire... Esatto. Facciamo tutta la Sicilia. Perché, insomma, è giusto ricordare. Diventi punto cardine della... Cioè, io penso per esempio ai meravigliosi vini che nascono sulla Valle dell'Etna, alle uve. Peraltro c'è un momento di grande difficoltà e... Sì. Viviamo... No, parliamo di queste difficoltà. Cioè, tu ovviamente, è chiaro che hai fatto una scelta, punti sulle materie prime, punti sull'agroalimentare siciliano, sul percato siciliano. Certo. Cerchiamo di puntare più o meno sulle materie prime. E oggi come si fa con la crisi che c'è? Molto difficile. Molto difficile anche perché devi cercare... E' proprio questo il compito di un bravo chef. Cercare di quadrare i conti e cercare di... Quello si chiama il food cost. Il food cost. Il food cost che deve rientrare con work cost, perché anche dietro ogni... Materia prima c'è la sua lavorazione e quindi deve essere calcolato. Tutte le spese extra che ci sono all'interno di un'azienda, quindi all'interno di un progetto. E quindi un bravo chef deve cercare di far quadrare anche i conti. Perché in realtà lo chef non ha soltanto il compito di designare i piatti e le portate, ma è come l'amministratore delegato di una compagnia, no? Deve cercare di far quadruvare tutte cose insieme. Un maestro d'orchestra, visto che sei al Teatro Massimo, ai Giardini del Massimo, sei un maestro d'orchestra. Sì. Adesso entrerà il nuovo menù. Stuzzichiamo il palato di chi ci ascolta. Facciamo titillare le papille gustative a chi ci ascolta. Il nuovo menù entrerà il primo dicembre. Si sto lavorando in questo momento e anche parlando di food cost, stiamo calcolando tutta la parte di food cost su tutti i piatti, perché è giusto aziendamente parlando. Però un piatto che mi ha stupito sin da subito è stata la seppia. La seppia, nonché alimento di stagione, che ora cominciano le seppie. È una seppia di balestrate, quindi vado a prendere direttamente le seppie a balestrate. A giochi anche tu in casa. Segui, come dire, l'imprinting di Maestro Cannavacciolo. Assolutamente sì. Prendiamo la seppia e col suo nero andiamo a glassarla con una maionese anche al baccalà. Dei funghi porcini. Una maionese al baccalà. Una maionese al baccalà e una maionese al nero di seppia. La glassiamo quasi così. Io in questo momento mi dispiace perché io sono veramente molto triste, perché ascoltare queste cose e immaginarsele visivamente e non poterle degustare è un dramma psicologico per me. La maionese al baccalà deve essere qualcosa di strepitoso. Immagino già con la serenità della seppia, deve essere un contrasto. È una seppia cotta a bassa temperatura, quindi cuoce per circa tre ore e mezzo. E poi viene messa all'interno, quindi dentro viene messo un facottino di funghi porcini e i suoi tentacoli. Dopodiché viene fatta una colatura al miele, quindi qualcosa di dolce. Gian Vito Gaia è veramente una brutta persona, veramente sei cattivo. Perché non te l'ho portato. Non te l'ho portato. No, vabbè, no. Dovete venire al teatro. No, parliamo al teatro e ti vorrò riprendere mentre prepari. Secondo me è una cosa che dovremmo fare vedere per spiegare anche alla gente, fare vedere esattamente la fatica che c'è dietro, perché secondo me c'è un punto debole in tutti i format televisivi. Fanno vedere soltanto l'aspetto gioioso della cucina che c'è. È vero. Ma dentro si lavora e si putta. Dietro c'è tanto, tanto lavoro. C'è tanto lavoro. Tanto, tanto lavoro. E i giardini del massimo ci stiamo provando. Va bene, allora io ringrazio Gianvito per il tempo che ci hai dedicato. Questi 24 minuti sono volati via veramente, ma perché l'argomento è veramente appassionante. Abbiamo parlato di una cosa meravigliosa che è il cibo, il modo con cui ci nutriamo e se lo facciamo con alimenti di qualità. Noi in Sicilia siamo fortunati, no? Eh sì, il cibo dico sempre convivialità. Quindi ci lega ognuno con un altro. Ringraziamo il maestro Cannavacciolo e gli facciamo i complimenti per la sua terza stella. Cannavacciolo ringraziamo perché ci ha restituito Gianvito e ce l'ha riportato qui. Ma io ringrazio lui perché mi ha dato tanto. Ti ha dato tanto. Sì. Eh, direi che è il momento di concludere perché tra un poco ricomincia la linea di lavoro. La vita di Gianvito Gaio è una vita dedicata interamente al mondo della cucina. Sì. Con questo ti saluto. Grazie a voi. Buon lavoro, un bocca al lupo per tutto. E magari fra qualche anno potremo anche festeggiare la prima stella di Gianvito. Lo spero. Con finger, mi raccomando. Lo spero. Grazie a tutti e alla prossima puntata di Talk Sicilia. Arrivederci.